camminiamo mano nella mano con dio e saremo felici in eterno questa è una bellissima preghiera che dovremmo recitare spesso attraverso questa preghiera noi ci rivolgiamo al signore direttamente chiedendogli di camminare insieme a noi di donarci la pace di essere sempre in mezzo a ciascuno di noi attraverso poi l'intercessione di gesù chiediamo che la nostra supplica possa arrivare al padre stupenda la preghiera perché tramite essa chiediamo anche l'intervento della madonna dobbiamo pensare che dio sia sempre al nostro fianco in qualche modo e ci tenga per mano così potremo proseguire sicuri di giungere nel suo regno eterno nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen vieni padre vieni a camminare con noi vieni a donarci la pace vieni a vivere in noi vieni padre vieni presto il mondo questo nostro mondo ha bisogno di te padre santo padre buono padre misericordioso chiama i tuoi figli santificali nell'amore donna vita e speranza a quanti vogliono servirti ed amarti rigenera nell'amore i figli traviati e lontani salva l'umanità peccatrice salva la chiesa di cristo signore ti adoro ti glorifico ti lodo padre mio gesù benedetto presenta la mia supplica al padre voce di una povera piccola creatura di dio a te lo chiedo signore nel nome di maria assunta in cielo e regina degli angeli e dei santi nel seno della trinità santissima amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti